allora buonasera lascio passare come sempre qualche secondo in maniera che chi a piacere possa seguire immediatamente la diretta che sarà particolarmente breve perché qui in questo caso faccio solo un banalissimo ragionamento che però mi sento in dovere di proporre a tutti vedo che siete già abbastanza collegati quindi spiego il perché di questo titolo innanzitutto domani naturalmente questa settimana proseguiamo con i lavori della commissione di inchiesta però ormai da diverse settimane quello che sta circolando sui giornali radio e televisioni è che oltre alle responsabilità personali precise di una parte di dirigenti bancari presidenti amministratori delegati determinate figure che lavoravano proprio nelle banche che poi sono finite in questo grande calderone di crisi di salvataggi più o meno veri più o meno falsi tutte queste perdite di capitale ecco oltre ripeto alle responsabilità precise di queste persone che facevano parte delle banche c'è una responsabilità anche da parte dei vigilanti banca d'italia e consob e sta girando un po il messaggio che le responsabilità principali sono appunto della vigilanza per non aver saputo vigilare in maniera efficiente efficace precisa benissimo ovviamente stiamo proseguendo e stiamo verificando che effettivamente ci sono cose che a noi sembrano molto gravi che sono successe però perché io dico attenzione al fenomeno del capo espiatorio perché la questione semplicissima chi nomina i presidenti i vertici dei vigilanti cioè di banca d'italia e di consob chi nomina i vertici e le strutture apicali cioè le massime figure dirigenziali di banca d'italia e consob allora aiutiamoci un attimo qui siamo nel sito della consob la commissione ecco la commissione che dirige appunto consob è un organ collegiale composto da un presidente da quattro commissari nominati con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri quindi quando diciamo consob ha delle responsabilità sì certo e stiamo proseguendo ad indagare certo io lo do per certo ma chiaramente poi è sempre la magistratura alla fine a dare eventuali responsabilità civili o penali però stiamo effettivamente approfondendo il discorso che consob secondo noi ha delle responsabilità ma ribadisco chi nomina il presidente e i quattro commissari che fanno parte appunto della commissione che dirige la consob la nomi lo nomina il presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri questa è un'informazione che trovate facilmente sul sito della consob e adesso sto guardando il monitor con il sito della consob davanti una cosa abbastanza ovvia consob i vertici sono nominati dalla politica presidente del consiglio dei ministri presidente del consiglio dei ministri fa la proposta presidente della repubblica presidente della repubblica normalmente convaglia la proposta quindi la responsabilità come sempre è della politica che ci ha preceduto negli ultimi vent'anni passiamo a banca d'italia passiamo a banca d'italia qui per essere ancora più precisi vi faccio vedere il sito del parlamento italiano vediamo se becco il pulsantino giusto allora forza 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 eccolo qua vedete questo è il sito della camera in particolare faccio vedere eccolo qua parlamento italiano e questa la legge 28 dicembre 2005 numero 262 disposizioni per la tutela e risparmio del disciplina dei mercati finanziari pubblicato nella gazzetta ufficiale a dicembre 2005 quindi come vedete mi sto riferendo in primis proprio alla legge e vediamo cosa dice alla legge per quanto riguarda la nomina appunto eccola qua vedete ve la faccio leggere in diretta diciamo così la nomina del governatore è disposta con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri ma guarda un po' incredibile la nomina del governatore di banca d'italia adesso non c'è scritto qui ma negli articoli precedenti come vedete se guardate gli articoli precedenti sono tutti relativi a banca d'italia quindi stiamo parlando di banca d'italia vedete articolo 19 banca d'italia la nomina del governatore è disposta con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri previa deliberazione che tra l'altro vi aggiungo io non è obbligatoria scusate questo si previa deliberazione del consiglio dei ministri sentito il parere ecco in questo caso qui è il parere appunto è un parere quindi non è vincolante ma di solito si ascolta assolutamente sempre del consiglio superiore della banca d'italia quindi banca d'italia i vertici sono nominati dalla politica e da banca d'italia stessa dal consiglio superiore della banca d'italia sono 13 componenti vi metterò un paio di link affinché possiate informarvi su chi sono ci sono imprenditori ci sono professori membri vari nominati dalle sedi di banca d'italia banca d'italia a 13 sedi sparse per il territorio ogni sede nomina un membro del consiglio del consiglio di banca d'italia stessa è il consiglio superiore della banca d'italia quindi attenzione solo un ragionamento banale certamente consob e banca d'italia ripeto secondo noi certamente non è ancora non siamo ancora nella fase in cui la magistratura ha già dato delle sentenze secondo noi mi correggo secondo noi banca d'italia e consob hanno le loro pesanti responsabilità ma la politica non provi a fare il giochino dello scaricabarile perché è la politica che nomina i vertici di questi due organi come vi ho fatto vedere sia consob che banca d'italia la nomina in sostanza è del presidente del consiglio dei ministri quindi la responsabilità è degli ultimi presidenti dei consigli di ministri che ci hanno governato negli ultimi vent'anni quindi la politica non provi a dire a è colpa di banca d'italia a è colpa di consob noi siamo innocenti e puliti come un bambino dopo il bagnetto non è assolutamente così come sapete benissimo io mi sono limitato a a rifarvi a ricordare di questa cosa ovvia la responsabilità alla fine è sempre politica questi organi i loro vertici sono nominati dal presidente del consiglio dei ministri ricordatelo a tutti ricordatelo a tutti anche sabato ero in un convegno a firenze in cui si parlava appunto che cosa sta succedendo nelle banche la commissione d'inchiesta e una collega guarda caso dei partiti di maggioranza ha detto eh beh ma non usiamo la commissione d'inchiesta come tribuna elettorale non facciamo campagna elettorale su quello che è successo sulle banche facciamo solo proposte per il futuro non guardiamo più al passato ma con tutto rispetto non sono assolutamente di questo parere anzi mi sembra una grandissima eh presa per i fondelli è come dicono i napoletani che ha avuto avuto chi ha dato ha dato scordiamoci un passato siamo a naboli paesata qualcosa del genere non conosco perfettamente in napoletano ma come scordiamoci il passato eh no no chi ha governato negli ultimi vent'anni ha pesantissime pesantissime responsabilità per non aver saputo come minimo vigilare efficacemente sulla banca eh sul sistema bancario italiano io ho ribadito in questo convegno che si è tenuto appunto sabato a Firenze eh io ho una un diploma di perito elettronico la laurea in legge non la conterei un granché perché l'ho fatta come studente lavoratore anche il diploma di perito elettronico l'ho fatto come studente lavoratore eh nonostante questo sono trent'anni che leggo delle riviste eh fatte bene eh di associazioni di consumatori in materia bancaria e sono trent'anni che queste riviste spiegano in parole molto semplici moltissimi comportamenti perlomeno immorali delle banche perlomeno immorali perlomeno che ti fanno venire ehm il nervoso eh ti fanno venire in aria via fior di pelle perché vengono descritti comportamenti che convengono alle banche molto alle banche ma non convengono assolutamente ai cittadini ora se queste cose erano segreti di pulcinella se questi comportamenti delle banche si sapevano la politica è estremamente responsabile di quello che è successo ribadisco i vertici di Banca d'Italia e di Consob da sempre sono nominati dal presidente del consiglio dei ministri quindi che nessun politico provi a scaricare la responsabilità verso questi soggetti certo hanno le loro colpe ma le nomine dei vertici erano nomine politiche fatte dal presidente del consiglio dei ministri quindi ricordiamocelo tutti comunichiamolo a tutti e non facciamoci prendere in giro da chi vuole scaricarsi la responsabilità troppo comodo dire quello che è successo è successo adesso guardiamo avanti sì certamente guardiamo avanti ma quello che succede nel passato deve servirci per individuare i veri responsabili i veri responsabili sono sempre e comunque la politica sempre comunque chi ha governato che aveva il potere di nomina e il potere avendo la maggioranza di cambiare le regole e le regole non sono state cambiate vi ricordo per l'ennesima volta che la separazione tra banche d'affari e banche commerciali che è indicata da qualsiasi professionista e anche da qualsiasi politico come soluzione facile non totale per carità non è una soluzione totale ma è una soluzione facile ed estremamente efficace per diminuire questa situazione di gravissima rischio perché i risparmi buoni dei consumatori dei degli italiani sono assieme alle alle speculazioni perché tutto assieme non c'è appunto una separazione tra banca cassaforte banca è totalmente prudente è una banca invece d'affari che legittimamente rischia gli stati uniti ricordiamocelo solo sono tornati alla separazione stati uniti patria del capitalismo della speculazione finanziaria degli inventori di questi strumenti derivati complessissimi e rischiosissimi gli stati uniti sono tornati alla separazione tra banche d'affari dei banche commerciali in italia non si vuole fare in europa l'europa dopo anni che sembra che ci lavori sopra proprio questo mese ha dichiarato ma non lo facciamo più non è più prioritario non è più importante ennesima dimostrazione di come la politica è pesantissimamente influenzata dai poteri finanziari non è possibile che una misura così che chiunque abbia competenze in economia in materia bancaria in materia finanziaria e ribadisco anche tutti i politici se li prendete singolarmente tutti quanti dicono sì 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 sacrosanto dobbiamo ritornare alla separazione tra banche d'affari e banche commerciali bene andatevi a leggere le notizie della commissione europea non si fa più la separazione tra banche d'affari e banche commerciali questa è la politica della maggioranza questa è la politica che ci sta governando questa è la politica che negli ultimi 25 anni ha nominato i governatori di banca d'italia e i consigli e gli stessi organi superiori della consul quindi ricordatevi ogni volta che trovate un politico e ricordatevi sempre che almeno per il futuro almeno per il futuro esistono le alternative esistono le alternative queste banche etiche che guadagnano di più delle banche tradizionali hanno sofferenze quattro volte minori hanno un miglior rapporto tra il capitale posseduto e il capitale che viene prestato hanno i vertici apicali che prendono al massimo cinque volte quello che prende il dirigente di fascia più bassa hanno tutti i parametri migliori rispetto alle banche normali quindi almeno per il futuro noi come politici almeno il movimento cinque stelle che già dal 2013 aveva detto se le sbaglie se le banche sbagliano devono pagare l'avevamo scritto nel programma 2013 ecco noi proveremo a fare la nostra parte ma vi ricordo che tutti voi come consumatori avete un enorme potere scegliendo le banche migliori in questo caso le banche etiche le banche dovrebbero essere comunque etiche la banca dovrebbe essere un soggetto che raccoglie denaro da chi ne ha tanto e lo presta per far muovere l'economia per fare progetti di economia reale acquistare macchinari capannoni eccetera eccetera e non è quello che sta facendo quindi ricordatevi che l'alternativa c'è anche per voi almeno per il futuro come sempre chi mi conosce lo sa ma parlo per i nuovi amici ne sto sto ricevendo tantissime richieste di amicizia in questi giorni trovate tantissime informazioni nella mia sezione finanza etica e consumo critico del mio blog tracce quindi non limitiamoci perché leggo sempre tanti insulti leggo sempre tanta rabbia non limitiamoci alla rabbia non limitiamoci a dire vergogna vergogna a casa a casa non serve a niente arrabbiarsi e basta arrabbiarsi e basta non serve a nulla non serve a nulla votate con quello che avete di più potente in mano il portafoglio quello è il voto che si fa tutti i giorni perché sulle urne ci si va una volta l'anno ogni due anni ogni tre anni dipende comunali regionali provinciali nazionali ma con il portafoglio votate tutti i giorni tutti i sacrosanti giorni per cui per favore non scrivetemi vergogna oppure ciao bravo no io non sono bravo mi limito a fare ragionamenti banali che sapreste fare benissimo anche voi passiamo ai fatti passiamo i fatti come parlamentare sto facendo tutto il possibile ma come cittadino queste cose che vi sto suggerendo io le ho fatte 15 anni fa come cittadino è quella la differenza ripadisco si vota tutti i giorni con un portafoglio per cui banche assicurazioni compagnia elettrica prendetevi quelle etiche prendetevi quelle etiche e sostenibili sul mio sito trovate tutte le indicazioni mio blog tracce grazie a tutti buona serata devo scappare perché giustamente il palazzo chiude ciao buona serata a tutti